C'era alla vigilia la paura che questa squadra potesse arrivare stanca, la reazione e il risultato dice di no. È un grande gruppo anche da questo punto di vista, ha ritrovato subito energie mentali? Sì, sì, è veramente un grande gruppo, come ho detto prima, insomma, per fare questa cosa qui io non ho messo niente, vuol dire che gli anni passati hanno chi c'era seminato bene in termini di valori sportivi e questa settimana, insomma, questi valori me li prendo, insomma, nel senso che sono grato a chi me li ha dati perché in effetti in Brasile ci sono stati piccoli grandi disagi, ma i ragazzi mai una lamentera, mai una voce fuori dal coro e ieri insomma che pensavo che fosse un elemento in cui dovevo magari cercare io di aiutarli, invece sono andati subito avanti come dei treni e questo vuol dire che hanno un'abitudine al lavoro ed è una gran cosa anche perché stiamo provando a cambiare qualcosa nel gioco, questo a volte ci penalizza, però credo che la strada debba essere quella perché ci sono delle squadre che si sono rafforzate molto e noi dobbiamo provare, essendo rimasti simili a quello dello scorso anno, cambiare qualcosa di quello che facevano bene e provare comunque a cambiare uno stile di gioco per essere un po' più competitivi. Nel farlo c'è il momento dell'imparare e noi siamo lì e nell'imparare c'è il momento dell'errore e non li stia facendo. Nella partita di oggi molto meglio del solito al servizio? Sì, già appena siamo tornati un pochettino il servizio in allenamento è andato meglio adesso. Il servizio è un po' a volte come il pesce che va di giornata in giornata, però ha degli aspetti tecnici importanti che stiamo provando a cambiare più che per cercare il punto, per cercare una pressione costante con una battuta in salto buona e magari non fortissima, però costante. Anche questo percorso ha degli alti e bassi, io sono fiducioso che possa pagare e nel frattempo devo aspettare, far coraggio ai ragazzi, spronarli perché non è che si fa tutto subito. Grazie.